E' stata una partita pazza quella di ieri a casa Cili con il Cili Verge che ha battuto 4-3 la Castellana in rimonta dopo l'1-3 conseguito dopo 5 minuti all'inizio della ripresa la partita si indirizza subito in favore degli ospiti dopo 5 minuti è 1-0 tiro da fuori di Seikic con l'aiuto del palo super vigilati la Castellana in canna ma è l'1 gialloblu a negare lo 0-2 con una super parata su Beltrami la partita dei ragazzi di Quartuccio si accende al 15esimo rigore trasformato la triglia dopo il fallo subito da Tanghetti il tiro dagli 11 metri però è anche ciò per cui la Castellana torna avanti Seikic li trasforma dal dischetto superando vigilati la seconda frazione si apre come la prima con gli ospiti che vanno avanti di due gol tiro all'incrocio di Taiba che si insacca alle spalle di vigilati il Cili risponde subito e sempre che un rigore può tornare in una partita dal dischetto Minè si sbaglia ma il 9 rimedia segnando subito dopo sulla respinta da qui in poi inizia il dominio gialloblu al tredicesimo Lancini salva su Scidone e poco dopo la rovescita di Tanghetti esce di un soffio il 10 è protagonista al 24esimo quando subisce un fallo in aria per il quarto rigore del match dal dischetto torna Triglia che non sbaglia e trova il 3-3 prima del gol Castellana rimonta nella Cili Verga e c'è tempo per una super parata di Lancini su Triglia al 44esimo però esplode Casacili missile di Minesi sotto la traversa su cui Lancini non può fare niente e trova così il gol del 4-3 che vale la vittoria per i gialloblu dopo 7 minuti di recupero l'arbitro chiude l'ostilità concedendo i 3 punti ai padroni di casa che torneranno in campo domenica per la sfida contro il La Falco fuori casa alle ore 14.30 e poi vi un po' di nuovo